ciao buona giornata buona vita buona eternità grazie per esserci ci siamo risveglio personale perché questo titolo perché ho visto nel corso degli anni molte persone che hanno organizzato dei corsi di crescita personale però intendevano una crescita spirituale secondo me non esiste crescita spirituale esiste risveglio spirituale personale la crescita è solo un fatto fisico c'è il corpo che cresce ma non lo spirito lo spirito dorme spirito e coscienza sono sinonimi è come la favola la coscienza è la bella addormentata nel bosco il bosco simbolicamente la mente dove uno entra ci si perde come un labirinto in sanscrito già detto altre volte la mente è chiamata vana la foresta la foresta la selva oscura di cui parla d'antelighier nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita di una commedia che in realtà si chiamava la commedia poi hanno aggiunto divina dopo come titolo davanti alighieri quindi risveglio personale perché personale perché avviene a livello individuale o perché lo cerchi o avviene certe volte se avviene troppo bruscamente può creare dei grandi problemi grandi problemi e uno si risveglia di colpo e dice adesso ho capito chi sono e uno dice ma Giorgio che dici ma guarda ho capito che io non sono Giorgio o non sono solo Giorgio gli altri si spaventano adesso ho capito di come poche cosa sai che mi sono svegliato stanotte ho capito ma io sono una donna e uno dice ma come sei una donna tu sei un uomo no no credimi io ricorri anzi adesso mi vesto da donna mi trucco lui rimane impazzito allora anche il risveglio personale va fatto progressivamente grazie all'aiuto di amici veri sinceri gli amici si vedono nel momento del risveglio il bisogno del risveglio sì ci vuole una guida spirituale la guida spirituale può essere o una persona vivente o può essere qualcuno che ha lasciato dei libri delle tracce dei video da cui possiamo prendere c'è uno dei maestri in india che dicono esempio in mantra non vanno detti così meccanicamente anche meccanicamente come l'acqua uno si butta l'acqua si lava però se uno si lava scientificamente col sapone giusto con l'acqua giusta la temperatura giusta sfregando con le mani giuste ha una pulizia migliore se uno prima di dire in mantra medita anche poco breve poi ripete in mantra e poi medita allora il mantra ha più effetto che non ripetuto meccanicamente sono quelli che ripetono il mantra di Shiva OM NAMA SHIVAYA potete scriverlo se non lo conoscete Hare Krishna OM NAMA SHIANTI OM OM NAMA SHIANTI OM NAMA SHIANTI 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 OM trovate adesso vedo dove trovate i mantra pronunciati da me in modo antico come si usava una volta in India qui su youtube adesso ti metto tutti i richiami di modo che questi mantra aiutano il risveglio il silenzio aiuta il risveglio il silenzio è forte come i mantra i mantra sono meditazione sonora il silenzio un certo tipo di alimentazione leggera semi liquida aiuta il risveglio frequentare certe persone leggere certi libri certo cosa vuol dire certo vuol dire col tendenza spirituale il risveglio è simile al risveglio quello classico uno dorme si sveglia se viaggiate spesso vi è successo ma anche se viaggi raramente che ti svegli la prima domanda non riconoscendo la stanza dove dormi è dove sono siccome il bambino il nascituro la bambina i bambini i neonati non parlano non riescono a dire dove sono chi sono però si guardano con gli occhi sbarrati intorno perché non riconoscono il luogo dove si erano addormentati 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 nel senso se muori puoi perdere conoscenza quando ti risvegli ti ritrovi in mezzo a delle persone che nel caso me che ti chiamano giorgio figlio mio nipote mia nonna giorgio e tu ti chiedi ma questi chi sono? non chi sono io io sono quello che guarda io sono l'osservatore io sono lo spirito eterno ma questi chi sono? provi a immaginare che chiudi gli occhi tieni gli occhi chiusi due tre anni quando li riapri sei in una stanza diversa con un corpo diverso con persone che ti chiamano in un modo diverso con persone che ti dicono ma giorgio sei mio figlio sono tua mare sono tuo pare sono tua sorella sono tua nonna tu dici ma chi so poi richiudi gli occhi riapri e torni come eri prima no? ecco lo diciamo sogno cioè uno si addormenta in una stanza sogna di essere altrove si risveglia in quella stanza chi viaggia invece ha questa grande possibilità che è quella di risvegliarsi in stanze diverse con porte diverse dove è il bagno dove è quindi viaggiare è utile viaggiare può diventare se vogliamo un'esperienza psicologica interessante affascinante perché? perché ci abitua al risveglio a mantenere costante l'attenzione la consapevolezza nel risveglio e poi dopo c'è il dopo viaggio che uno si risveglia da dove era partito allora ci può essere il down no? allora ricomincia a viaggiare cioè ci ha voglia di viaggiare in realtà noi abbiamo tutti voglia di cambiamento ma il vero cambiamento è anche cambiare pianeta specie corpo molti mi hanno detto ma come tu hai detto che questa è la tua ultima incarnazione? qua sì oramai ho già fatto tutto quello che volevo fare ho visitato monti, mari, fiumi, laghi, colline, deserti sono stato in castelli, ho dormito in castelli, capanne, alberghi, alberghi belli almeno belli ho dormito ovunque, ho dormito ovunque, ho dormito ovunque, ho dormito ovunque, volevo stare ho stato in isole, isolette, ho dormito in aereo, ho dormito in nave voglio cambiare perché noi abbiamo bisogno di varietà di cambiare sono ripetere sempre la stessa nascita, chi sono, ti dicono che sei un altro poi magari sogni che tu quando sogni ti ricordi di essere un altro da quello diverso da quello che ti hanno detto quindi il risveglio personale è importantissimo risveglio personale, risveglio spirituale personale gestisci nel modo migliore se serve prendi appunti scriviti delle note tieni un quaderno di risveglio personale sogni particolari pensa se ognuno che ci sogna ci scrive ho sognato, magari a te non ti risulta però magari c'è un messaggio oppure non c'è niente c'è solo l'immaginazione di quello che ti ha sognato che ha deciso che tu dovevi apparire nel suo film notturno e allora ti dice ah sai tu ho sognato, cantavamo insieme che bello io poi mi ricordo benissimo cantavamo oppure ah viaggiavamo oppure eravamo sposati ogni tanto qualcuno mi ha raccontato che mi ha sognato e io ho detto va bene mando amore, buona energia mando il mio amore, la mia buona energia a tutti quelli che mi pensano si ricordano di me, mi guardano e aggiungerei che mi sognano ciao 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 ciao